Vogliono annullare l'opposizione, replicano così a Letta, Grillo e Casaleggio. Il leader dei 5 Stelle scatena sul web un'ondata di insulti contro la Presidente Boldrini. Insulti poi eroscurati in serata. Sdegno di tutti i partiti. Luciano Gheffi. Rispediscono al mittente i richiami del Presidente del Consiglio, Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. In un post a doppia firma sul blog si chiedono se Letta voglia annullare la voce di un'opposizione che cerca di proteggere gli interessi degli italiani. Siamo giunti alle minacce, lamentano, si invoca tolleranza zero. E allora i due leader del Movimento 5 Stelle si chiedono chi sia dalla parte della democrazia e delle regole. Altrove, secondo loro, vanno cercate le responsabilità degli incidenti in aula e di quello che definiscono lo stravolgimento delle regole parlamentari. In questi giorni il Movimento 5 Stelle ha subito due gravi aggressioni. Una fisica, la nostra collega deputata Loredana Lupo, da parte del questore d'Ambruoso, per la quale non abbiamo avuto alcuna parola di solidarietà da parte della Presidente della Camera Boldrini. E l'altra, il completo stravolgimento delle regole democratiche per il quale appunto non è stato possibile votare la nostra proposta di scorporare il decreto Imo dal decreto Banca d'Italia. La Boldrini, con Letta e Napolitano, resta nel mirino di grillo dei suoi. Secondo un sondaggio fra i frequentatori del blog, la Presidente della Camera dovrebbe dimettersi e un post su Facebook che rimanda a un video satirico dà il via a una lunga sequela di insulti a sfondo sessuale nei confronti del Presidente della Camera.